C'è un bar, qui vicino. C'è un bar, qui vicino. C'è un bar, qui vicino. Vorrei, un'aranciata. Volete, del caffè? Vorrei, una birra, chiara scura. Vorrei, una birra, chiara scura. Vorrei, una fetta, di torta. Posso, sedermi, a questo, tavolo. Posso, sedermi, a questo, tavolo. Dove, sta il bagno? Dove, sta il bagno? Scusatemi, un attimo vado, al bagno. Dove, si trova, il museo? Dove, si trova, il museo? Dove, si trova, il museo? A che ora, apre, il museo? A che ora, apre, il museo? A che ora, chiude, il museo? A che ora, chiude, il museo? A che ora, chiude, il museo? L'entrata, è libera. L'entrata, è libera. L'entrata, è libera. È proibito, fare, fotografie? È proibito, fare, fotografie? È proibito, fare, fotografie? Più avanti. Più avanti. Più avanti. Sempre, dritto. Sempre, dritto. Sempre, dritto. Seguo, questa, via. Seguo, questa, via. Seguo, questa, via. Dove, posso, comprare? Dove, posso, comprare? Dove, posso, comprare? Posso, provarlo. Posso, provarlo. Posso, provarlo. É troppo, caro, non avete, qualcosa, di, più economico. È troppo, caro, non avete, qualcosa, di, più economico. É troppo, caro, non avete, qualcosa, di, più economico. Non avete, nient'altro, da mostrarmi. Hai avuto, notizie, di tuo fratello, ultimamente. Avete, riviste, in italiano. Avete, riviste, in italiano. Vuoi quello, verde, o quello, blu. Vuoi quello, verde, o quello, blu. Torno tra due, o tre, minuti. Torno tra due, o tre, minuti. Torno tra due, o tre, minuti.